Amici di Investire in Borsa a Caccia dei Dividendi, come sempre sono Lorenzo, vi auguro una buona giornata, bentornati e bentrovati. Oggi parliamo di campioni del dividendo made in UK, azioni e ETF. Cosa vuol dire? Allora, come sempre, mi capita di parlare dei dividend aristocrats, ovvero di quelle aziende che tramite le loro azioni sono state capaci, hanno avuto la forza economica, di aumentare i dividendi per almeno 25 anni consecutivi. Come vi sarete accorti, parlo sostanzialmente sempre di aziende e azioni americane. Questo perché, in particolar modo, gli americani sono veramente molto attenti alla crescita dei dividendi e, diciamo, alla soddisfazione anche dei propri azionisti. Ma possiamo dire che esistono anche altre azioni in giro per il mondo che soddisfano questi criteri. In particolar modo, oggi analizzeremo cosa succede negli Stati Uniti, scusatemi, nel Regno Unito. Ricordiamoci, infatti, che le azioni britanniche, tra le altre cose, godono anche di una fiscalità agevolata. I dividendi, infatti, non hanno tassazione nel Regno Unito e quindi avremo soltanto il 26% italiano. Vedremo, quindi, come poter investire nei campioni del dividendi del Regno Unito attraverso azioni e attraverso ETF. Non dimentichiamo, però, che oltre al rischio mercato, ovvero al rischio di poter vedere il prezzo delle nostre azioni calare nel tempo, esiste anche il rischio cambio. Chiaramente, investendo in azioni o ETF che si espongono al mercato britannico, saremo esposti al rischio cambio sterlina. Stessa cosa, d'altronde, che succede esponendosi ad azioni americane. Siamo, comunque, sotto il rischio del cambio euro-dollaro. Allora, andiamo subito a vedere, quindi, i titoli composti che compongono l'indice dei Dividend Aristocrats UK. Ma, prima di partire, vi chiedo un piccolo gesto gratuito, un like per supportare il mio progetto di educazione finanziaria che sto portando avanti attraverso il mio canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale schiacciando sulla campanellina. In questo modo riceverete una segnalazione ogni volta che ci sarà un nuovo video. Allora, prima, puntualizzazione. Come ho già detto, come ho detto tante volte, le Dividend Aristocrats americane, quindi quelle dello Standard & Poor's, devono rispettare un criterio ben preciso, ovvero un incremento dei dividendi per almeno 25 anni consecutivi. Invece, possiamo dire che l'indice dei Dividend Aristocrats del mercato britannico ha le maglie un pochino più larghe, quindi prevede una policy di dividend con incremento o almeno stabilità per quantomeno 10 anni consecutivi. Quindi, insomma, maglie un pochino più larghe, proprio perché comunque sennò sarebbero praticamente pochissime le aziende che potrebbero entrare in questo ristretto club. Possiamo vedere in questo grafico la performance delle Dividend Aristocrats britanniche, una performance, insomma, abbastanza deludente, possiamo dire, dal 2010 fino al 2015 c'è stata una continua crescita, poi una sostanziale stabilità, un crollo ovviamente a marzo di quest'anno e una ripresa non del tutto entusiasmante, possiamo dire. Il total return annualizzato a 10 anni è del 6,08%. Attualmente l'indice delle Dividend Aristocrats UK è composto da 35 azioni, il settore finanziario copre un quasi 30% all'interno di questo indice, quindi, insomma, una forte esposizione al settore finanziario con il 21% dei consumer staples e poi abbiamo Real Estate, Industrial, Healthcare, Utilities e via dicendo. Possiamo vedere in questo grafico la suddivisione per settore. Abbiamo poi anche, possiamo dire, la crescita dei dividendi, c'era stato un taglio nel 2009, ovviamente dopo la crisi Lehman Brothers, ma per il resto abbiamo avuto una continua crescita. Possiamo vedere in questo grafico, a istogrammi, come è cresciuto via via l'entità dei dividendi distribuiti. Le top 5 delle Dividend Aristocrats ricomprese in questo indice staccano un dividendo superiore al 5%, abbiamo qui la lista, e questo invece è l'elenco delle 35 azioni ricomprese in questo indice. Tra le aziende più famose, molte sinceramente non le conosco, però sono anche tante invece quelle che possono essere riconosciute dagli investitori più esperti, abbiamo BAT, quindi British American Tobacco, possiamo vedere Unilever, possiamo vedere Diageo, possiamo vedere Jupiter Fund, abbiamo anche Schröders, abbiamo Prudential, abbiamo Londo Stock Exchange, abbiamo GlaxoSmithKline, abbiamo AstraZeneca, famosa perché è attivissima nella corsa al vaccino, e poi altre tante aziende che magari ai più potrebbero non dire niente, però diciamo che in realtà sono ottime aziende se hanno avuto comunque la capacità di mantenere dividendi per almeno 10 anni consecutivi. Allora, quindi abbiamo la possibilità, per chi fosse interessato, di andare quindi a investire direttamente in queste azioni, chiaramente esponendosi a un rischio specifico, quindi nella singola azione. Una alternativa che ci offre il mercato è quella di andare a investire nelle dividend aristocrats del Regno Unito attraverso un ETF. Esiste infatti, quotato sulla borsa italiana, un ETF Spider che replica l'andamento delle società inglesi cui i dividendi sono cresciuti per 7 anni consecutivamente. Possiamo vedere come il prezzo attuale è di 10,65 euro per ogni singolo quota di ETF. Nell'ultime 52 settimane ha avuto un minimo di 8,49 e un massimo di 15,58, quindi è abbastanza vicino ai minimi. La dimensione del fondo è molto molto piccola, un indicatore sintetico di rischio dello 0,30, quindi insomma abbastanza contenuto. La distribuzione dei dividendi è su base semestrale. La replica del fondo è fisica e totale, vuol dire che l'ETF investe in questo indice comprando esattamente le azioni contenute nell'indice stesso. La valuta ovviamente è la sterlina, quindi abbiamo detto il rischio sterlina esiste. Come ha performato questo ETF negli ultimi anni? Allora possiamo vedere come i rendimenti sono stati abbastanza deludenti. Se dovessimo andare a confrontare con una diversificazione maggiore, chiaramente ha risentito anche della Brexit, quindi di tutti questi casi anche politici che hanno appesantito l'andamento delle azioni britanniche, chiaramente possiamo vedere i rendimenti passati che però non sono indicazioni per elementi futuri. Quindi bisogna vedere come l'economia britannica saprà destreggiarsi nei prossimi anni, sia tenendo conto da un lato della pandemia in atto, della grave crisi economica che sta attraversando un pochino tutto il mondo e anche della questione Brexit che tutto sommato è sempre un po' aperta. Quest'anno l'indice, l'ETF ha avuto una performance del meno 26%, l'anno scorso più 38%, però anche 2018, 2017 e 2016 che sono stati comunque anni tutto sommato positivi per le borse, tranne un po' il finale del 2018, questo ETF ha mostrato rendimenti negativi. Come possiamo vedere i dividendi sono staccati su base semestrale, quindi a marzo e a settembre di ogni anno, come possiamo vedere insomma dividendi abbastanza in crescita negli ultimi anni, una battuta d'arresto anche per questo settore geografico nel 2020. Come possiamo vedere infatti rispetto all'anno scorso un calo del 25% di dividendi distribuiti a marzo e un calo di quasi la metà dei dividendi distribuiti a settembre sempre di quest'anno, quindi un mesetto fa. Nel complesso quest'anno ha distribuito dividendi per 36 centesimi, diciamo che se lo valutiamo sul prezzo attuale di 10 euro viene un dividend yield di circa il 3,6%, 3,5%. Tassazione unicamente al 26% in sostanza salterebbe fuori un circa 2,6-2,7 netto per cento di dividendi distribuito su base semestrale. Andando a vedere quali sono i componenti di questo ETF, ci appoggiamo a un altro sito internet, Market Screening, possiamo vedere come, diciamo elencati per peso all'interno dell'ETF, abbiamo Japiter Fund, abbiamo British American Tabacco, al quarto posto possiamo vedere come abbiamo GlaxoSmithKline, poi scendendo vediamo via via un pochino tutti gli altri elementi. Attorno al quinesesimo posto, con un peso del 2,59%, abbiamo AstraZeneca e possiamo vedere come durante il 2020 hanno avuto la fluttuazione di prezzo le singole azioni. Quindi insomma l'azione che ha un maggiore peso è Japiter, ha avuto un andamento negativo del 42%, British American Tabacco meno 20%, Glaxo meno 24%, quindi insomma diciamo che le azioni che pesano maggiormente in questo ETF hanno avuto un andamento negativo, fortemente negativo, di conseguenza lo stesso ETF è stato veramente trascinato a ribasso nella sua performance annuale. Quindi insomma abbiamo visto alcune soluzioni alternative per investire in un mercato particolare come quello alla possibilità, diciamo, o meglio al rischio della Brexit e comunque a un andamento del cambio insomma non particolarmente brillante. D'altro canto possiamo dire comunque che i dividendi distribuiti sono comunque buoni, nel caso dovesse comunque sistemarsi un pochino la situazione, magari zone geografiche particolarmente colpite nell'ultimo periodo potrebbero magari beneficiare di una reazione maggiore. Allora, anche per oggi abbiamo finito. Vi consiglio magari di andare a spulciare nella playlist del mio canale YouTube per andare a vedere quali potrebbero essere altri video che vi possono interessare. In particolar modo potete andare a vedere la playlist Una Cascata di Dividendi per avere magari tante idee per investire in dividendi oppure anche magari vedere esempi pratici su come investire nel caso siete magari investitori alle prime armi. Come sempre vi invito a lasciare un commento a questo video YouTube, scrivetemi pure, non so, idee, magari investimenti che avete già fatto sul mercato britannico oppure altre considerazioni che volete fare, sia positive sia negative, su questi tipi di investimento. Come sempre io vi dico che non si tratta di consigli per l'acquisto ma mi piace comunque mostrare a tutti le varie possibilità che il mercato offre nel mondo degli investimenti. Poi mi trovate inoltre anche sul blog dividendi.wordpress.com, sulla pagina Facebook, sull'account Twitter, su quello Instagram. Anche per oggi abbiamo finito, un caro saluto a tutti da Lorenzo, ciao!